Presidente Jakob, si sta recando in Ungheria per una missione per la Commissione Civex del Comitato delle Regioni. Si parlerà soprattutto di migrazioni e di confini, vero? Si parlerà delle misure che l'Ungheria ha messo in atto ai confini Schengen. Sostanzialmente l'Ungheria ha inteso adottare misure molto rigide per quanto attiene i controlli e per quanto attiene la gestione dei migranti che provengono nel caso specifico dalla Serbia a l'Ungheria, quella che viene denominata rottobalcanica. La missione intende verificare che adottare provvedimenti di garanzia, provvedimenti di controllo restrittivi e ovviamente ciò non ecceda e non vada contro quelli che sono i diritti umani e contro quello che serve rispetto della dignità delle persone. Parliamo appunto di luoghi di detenzione, posti direttamente sul confine piuttosto che limitazioni molto importanti della libertà di movimento e di asilo. Ma la missione della Commissione Civex serve anche per valutare alcuni provvedimenti che ultimamente l'Ungheria ha adottato, il governo ungherese, la limitazione della circolazione degli studenti stranieri all'università ungherese. Questo andrebbe contro il principio della circolazione delle persone, soprattutto della cultura e dell'istruzione. e dall'altro lato comprendere anche meglio una sorta di questionario che sembra quasi un pre-referendum su quello che è il sentiment degli ungheresi verso l'Unione Europea, ciò letto però in una chiave negativa. Questo ovviamente da parte della Commissione verrà valutato attentamente perché oggi è importante che l'Europa venga presentata nella sua corretta forma e non magari con la lente di uno Stato e di una politica ungherese che si sta distinguendo per tratti fortemente anti-europeisti e populisti.